Settantunesimo anniversario di uno dei giorni più tristi della storia del capoluogo pugliese. Oggi i barri e i baresi commemorano le circa mille vittime causate dagli prite. Riavvolgiamo il nastro. Il 2 dicembre del 43, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, 105 bombardieri Junkers U-88 appartenenti alla Luftflot 2 tedesca effettuarono il bombardamento di navi americane che operavano a sostegno della campagna italiana degli alleati nel porto di Bari. Tra le imbarcazioni affondate, anche la nave statunitense Jonah Harvey carica di bombe alliprite. Bari prima e il mondo intero poi si ritrovarono davanti al primo caso di utilizzo, anche se involontario, di gas tossici durante un conflitto mondiale. Bari come per l'Arbor. I tedeschi attaccarono infatti uno dei poli di attracco più importanti per le truppe alleate di stanza nell'Italia meridionale. L'offensiva d'oltreoceano si fermò, consentendo alle truppe del Führer di rinforzarsi e prepararsi ad una nuova battaglia sulla linea Gustav. Questa mattina alle 10 il sindaco Antonio De Caro ha deposto una corona dall'oro nel porto di Bari presso il monumento dedicato ai caduti di quel tragico 2 dicembre 1943. Enrico Filotico per Contro Radio News